ok apriti a modi stella ovviamente gli amici vanno subito a infierire sapete che non si può fuori e comincia di nuovo si parte con una nuova run madonna e si prende carmè e si strugge anche noi normalmente giriamo nei barchi bravo Carmelo bravo aveva la configlia povera moglie e si riparte 100% promotti sulla run e caccattone anzi come dice lui a bomba bombazza e si fa anche il landing si scende e si continua si sfiora nei freni e si va avanti voglio sentire una ora io ve lo dico più casino fate più lui esagera quindi veramente bravo grazie grazie grazie